Se possiedi un dominio di terzo livello già attivo con Aruba, puoi eseguire in qualsiasi momento una modifica a servizio, scegliendone un altro tra quelli disponibili. Se mancano meno di tre mesi alla scadenza del dominio, sarà possibile modificare il servizio abbinato al terzo livello solo con contestuale rinnovo del dominio di secondo livello cui il terzo è collegato. Se il rinnovo viene effettuato nei 90 giorni prima della data di scadenza, la modifica è gratuita. Per iniziare, accedi alla pagina menagehosting.aruba.it con lo username Aruba e la relativa password. All'interno del pannello visualizzerai l'elenco dei domini collegati al tuo username. Se hai diversi domini e quello prossimo alla scadenza non è visibile in elenco, utilizza il campo di ricerca per trovarlo. Una volta individuato, clicca il pulsante Gestisci e seleziona la voce Terzi livelli. Da questa pagina, clicca su Gestisci in corrispondenza del dominio di terzo livello su cui desideri intervenire e seleziona la voce Modifica servizio. Scegli il nuovo servizio tra quelli disponibili in elenco. Non è possibile modificare un terzo livello verso soluzioni Hosting WordPress, Hosting WordPress gestito e Hosting WooCommerce gestito. Prosegui con l'ordine. Accetta le condizioni contrattuali del servizio spuntando le caselle corrispondenti e il metodo di pagamento che preferisci. Conferma i dati di fatturazione per completare l'ordine. Ben fatto! Il tuo ordine è andato a buon fine, ma il nuovo servizio è attivo solo dopo la registrazione del pagamento da parte di Aruba. Il vecchio servizio è disattivato all'attivazione del nuovo, quindi prima della scadenza dell'annualità in corso. Il contenuto del sito presente sul vecchio spazio web non viene spostato automaticamente sul nuovo e il pannello DNS viene risettato al cambio del servizio. Prima di richiedere la modifica del servizio, assicurati di avere una copia di backup del materiale e della posta elettronica se necessario.